Ciao da Cristiano di viaggiovero.com. Con il tutorial di oggi andiamo a vedere l'utilizzo e il funzionamento del sito megabus.com. Di che cosa si tratta? È la novità degli ultimi mesi in Italia e sono viaggi low cost con i bus, chiaramente. È un servizio già attivo da anni negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e molto utilizzato. L'utilizzo di bus di alto livello con wifi a bordo, bagno, a bordo, i famosi bus Gran Turismo e abbinato a tariffe low cost e a seconda del periodo della tratta con prezzi davvero concorrenziali. L'utilizzo del sito è molto molto semplice. Addirittura il sito è giocoso, tra virgolette, ludico come grafica e abbastanza spartano, ma quello che a noi interessa è l'utilizzo. La maschera più importante della home page è il box cerchi acquisto qui posto appena sulla sinistra. Andiamo a provare a inserire due biglietti, due passeggeri, due passeggeri. Lasciamo stare il numero di agevolazioni, il numero titolare di carta NUS Extra che a noi non interessano e soprattutto non ho ancora ben capito di che cosa si tratta. Selezioniamo il paese in cui dovremo prendere i biglietti e selezioniamo l'Italia. Per la nostra simulazione cercherò la tratta classica più richiesta, cioè quella Roma-Milano. Ora come ora, come puoi vedere, le città collegate sono Bologna-Firenze, Genova-La Spezia, Milano-Napoli-Padova, Pisa-Roma, Siena-Torino, Venezia-Verona. Ma man mano che andremo avanti con il tempo si aggiungeranno semplicità, un po' come è successo negli altri stati. Scegliamo la tratta da Milano a Roma. Come puoi vedere da Milano puoi prendere anche tratte verso l'Europa, cioè Lille, Londra ad esempio, ma non è l'oggetto del nostro tutorial. In questo caso noi andremo da Milano a Roma. Il mezzo, perché in alcuni stati c'è anche Megatrain e altri servizi, noi abbiamo solo autobus. La data di partenza, oggi siamo al 3 agosto, io farò una simulazione ad esempio per il, non so, per giovedì 20 agosto in andata e rientro domenica 23 agosto. Se hai un codice promozionale verranno magari mandati con i nuovi acquisti, ti verrà mandato magari un codice promozionale. Non ho ancora verificato come e quando si riesce a ricevere uno di questi codici, ma nel caso tu lo abbia basta inserirlo qui per ottenere la scontistica. Cliccando sul pulsante cerca verranno date le possibilità. Come puoi vedere le partenze sono tante, anche notturne, in maniera da poter ottimizzare il viaggio, dormire in viaggio e poi arrivare in mattinata a Roma. Le durate anche sono diverse, ci sono tratte da 9,45 minuti con il numero di fermate diverso rispetto alle 10,40 che hanno più fermate. I prezzi, questo è il prezzo massimo che puoi andare a pagare, io più di 14 euro, sono sincero, non ho trovato, ma ci sono anche tariffe ad esempio a 6 euro, cioè la partenza alle 6,40, quella da 10 ore e 40, che a me può andare benissimo, arriva alle 17,20 a Roma, il giovedì non mi interessa perdermelo in più, io prendo questa che mi costa 6 euro. Se clicchi su vedi ti dà la possibilità di vedere quali sono le fermate intermedie, cioè Milano, Genova, Pisa e poi Roma. Questa è la tratta che fa Genova e Pisa, praticamente la parte toscana, Liguria e Toscana, questa da 14 euro, se non sbaglio quella che fa Milano, Bologna, Firenze e poi Roma. Per il ritorno la domenica, come puoi vedere ci sono tariffe anche da 22 euro, sì, effettivamente sui ritorni le avevo anche già trovate, superiori, però comunque sempre tratte molto buone, a prezzi molto buoni, oppure anche di 10 euro, cioè una partenza alle 12 domenica, quando arrivo alle 22,40 a Milano, mi costerebbe 10 euro. Io provo a prendere questa, clicco su aggiungi viaggio al carrello e il mio itinerario, il riassunto vieni in vista, il mio itinerario vado a pagare un totale di 16 euro e 50 a persona, quindi il costo di connotazione è 50 centesimi, ti chiedono di inserire da dove hai conosciuto Megabus, quello che vuoi, poi basta cliccare sulla selezione della casella per l'informativa generale, se vuoi inserire un sms con il numero di portazione di viaggio, il servizio è a pagamento e costa qualche euro, basta inserire il numero di cellulare, poi andrai a cliccare su paga il viaggio, paga il viaggio, vediamo un secondo che si carichi la pagina, dovrai inserire i dettagli del pagamento, ovvero il nome, il cognome, io adesso vado ad inserire i dati a caso, una volta inseriti tutti i dati andrai a cliccare, mi raccomando una mail e la conferma, cioè mettere due volte la mail all'interno del campo perché a quella mail arriverà la prenotazione, procedi al pagamento, verrai portato a una pagina di pagamento in cui puoi pagare con le maggiori carte di credito. Questa è la velocissima, la velocissima utilizzo del sito Megabus e si trovano all'inizio, all'inizio si trovavano anche biglietti a un euro ad esempio, ora come ora come hai visto le tariffe sono leggermente cresciute, eravamo in lancio, in lancio servizio. Una cosa che ti raccomando di seguire sono le domande frequenti, le domande frequenti sul fatto se puoi portare cibo e bevande a bordo, la prenotazione come funziona, ovviamente devi solo far vedere la prenotazione, il bagaglio, le regole sul bagaglio di Megabus, diciamo che ci sono tutte le informazioni possibili. La franchisa del bagaglio è molto alta, quindi non dovrebbero esserci problemi. Detto questo, diciamo che l'utilizzo è tutto qui, è veramente molto semplice, i pullman sono molto comodi, i bus sono molto comodi, c'è il wifi gratuito sulla maggior parte delle tratte e se non c'è è perché il segnale non è presente nella zona che stai attraversando, ma comunque è un problema momentaneo. Detto questo ti invito a provarlo, io sono molto contento, devo ammettere di questo servizio, dell'arrivo di questo servizio, perché è un ulteriore modo di risparmiare però utilizzando, per muoversi in tutta Italia. Con questo abbiamo concluso, ci sentiamo al prossimo tutorial. Ciao da cristiano di viaggiovole.com